Uè, la puntata di oggi è la seconda di una doppietta dedicata ai partiti complottisti ed antisistema. In caso vi siate persi il primo episodio dedicato a DitaLexit, lo potete recuperare cliccando qui. Oggi invece parliamo di vita, alternativa per l'Italia e Italia sovrana e popolare. Così, dopo la puntata di oggi, potrete finalmente decidere a quale partito complottista vendere la vostra anima. Iniziamo! Il nostro viaggio della perdizione di oggi comincia con il partito VITA. Nasce VITA, una nuova comunità politica e sociale aperta ed inclusiva. A meno che siate LGBT, europeisti, medici, banchieri, schiavi dei poteri... Ma andiamo con ordine. Il movimento VITA, scusate, VITA, nasce dall'unione delle migliori menti. Esseri umani coscienti, consapevoli e coerenti, che hanno scelto di mettere i propri talenti a disposizione della comunità nazionale. Personaggi integerrimi, il meglio del meglio, qualità riconosciute anche da personaggi di spicco, quali ad esempio Gianni Rivera, Red Ronny, Silver Nervuti, Giorgio Sandri. Cioè, hanno preso quattro tizi a casa, un calciatore, un conduttore, un complottista, ma cosa mi significa aver messo quattro personaggi peggio assurtiti di un poké fatto da un ubriaco? Cioè, fermi tutti! Ho formato i nuovi Avengers. E allora, in pratica c'è Gabibbo, Gallinari, Teo Mammucari e Mario. Tranquilli, ci penseranno loro a Thanos. Tra i fondatori di vita troviamo personaggi del calibro di Sara Cugnall e Davide Barillari, l'ideatore dei No Paura Day Paolo Sensini, il segretario di Vaccini Vogliamo Verità Luca Teodori e Maurizio Martucci, direttamente dalla rinomatta, rinomata, scusate, ma anche rinomatta in effetti, alleanza italiana Stop 5G. Conosciamoli meglio. Sara Cugnall, ex Movimento 5 Stelle, poi espulsa dal partito e, ahimè, deputata, nota per le proprie posizioni antiscientifiche e, perché no, un pelino stravaganti. Siamo sani, siamo vivi, siamo integri, coerenti e quindi non ricattabili. E questo vi fa paura. A proposito, io mi sono portata a un kit di sopravvivenza. Vi consiglio di starmi molto lontano. Ecco qui con me, acqua santa, aglio e paletto. Sara Cugnall, sono convinto che si faccia un trombone bello grassoccio ogni qualvolta debba scrivere un post o partecipare ad un evento pubblico, visto che riesce sempre a partorire dei discorsi più creativi che a Woodstock nel 69. Cioè, questa è una rivoluzione di anime. Occhi e cuore al cielo, alle nuove generazioni, ai frutti del nostro albero. Siamo tutti connessi l'uno con l'altro. Oggi immersi in una frequenza incredibile, come non c'è mai stata per l'umanità. Nel corso della propria carriera politica, Sara Cugnall ci ha già regalato diverse perle negli anni. Tipo paragonare il Green Pass alla Shoah. O sostenere che il vaccino sia un OGM in grado di modificare il nostro DNA. E, perché no, scortare due spie americane ad interrogare un nostro concittadino per trovare delle prove di un fantomatico complotto contro Trump. Qui la vediamo invece in preda agli ormoni primaverili, mentre cerca di limonare duro un giornalista che neanche il messe dicenne a jesolo con le tedesche. Tuttavia, state tranquilli, perché avendo un cuore d'oro, Sara Cugnall vi perdona. Vi perdona per tutto il male che state facendo all'umanità. Dall'alto della mia posizione, oggi, vi lancio l'arma più potente. Io vi perdono, anche se mi state discriminando. Certo, magari qua e là gli scappa qualche denuncia. Ma state tranquilli, perché siate sicuri che non se la prenderà con la vostra anima. Compagno di merende di Sara Cugnall è Davide Barillari, consigliere regionale Lazio, ex Movimento 5 Stelle espulso, che nel corso della propria carriera ha combattuto delle battaglie importantissime, come ad esempio una nota faida contro la Nutella, non richiesta da alcun dipendente ed inventata di sana pianta da lui. Non so perché gli sia sembrata una buona idea o perché non abbia fatto alcuna verifica sulle effettive condizioni senza prima scrivere quelle cavolate. Non sa che gli è partito l'embolo dopo che gli è caduta una fetta di pane con la Nutella per terra. No, non si spiega. Poi si è messo nel parcheggio a fare ufficio all'aperto, dopo che non avendo il Green Pass non poteva accedere al proprio ufficio. E vabbè, un fracco di cavolate sui vaccini. Che ne so, tipo che la difesa naturale è meglio. O ancora che quando si è ripreso con in mano una pistola, che qui vedete da me abilmente censurata, mentre paragonava il vaccino ad una roulette russa. Questa è una roulette russa. E sei proprio tu a voler premere il grilletto. Cuniale e Barillari sono tipo i Bonny e Clyde di vita. Io li scippo troppo, vorrei troppo una storia romantica tra di loro. Qua si sono romanticamente barricati in ufficio per protestare contro il Green Pass, salvo poi scoprire che non potevano accedere al bar. Sofferenze terribili che hanno minato la loro resistenza durata solo poche ore poi. Qua hanno chiesto asilo politico al consolato svedese per una romantica fuga d'amore low cost. Un'altra coppia, stavolta vera, di Eminence e Novax, affiliati a vita, sono i nanopatologi, termine coniato da lei, Antonietta Gatti e Stefano Montanari. I due hanno fatto molto parlare di sé negli ultimi anni, creando o rilanciando bufale online sui vaccini del calibro, ad esempio, che la Croce Rossa starebbe rifiutando partite di sangue infetto dai vaccinati. O ancora che AstraZeneca non sia un vaccino, che il coronavirus non sia mai stato isolato e che sia stato creato in laboratorio. Ma anche vere e proprie teorie complottiste, come ad esempio che Montagnier, il famoso medico Novax, sia stato ucciso per non testimoniare a Norimberga 2, un famoso processo contro coloro i quali sono stati corrotti nella falsa pandemia. Senza naturalmente dimenticare i grandi classici, del calibro della ditta che seziona vivi i feti abortiti a pagamento per la produzione dei vaccini, o ancora della presenza di grafene, acciaio e parassiti nei vaccini. Tra l'altro, lo studio cui fanno riferimento pare sia uno studio pubblicato dalla Sessa Gatti, sotto uno pseudonimo per non farsi scoprire. C'è roba che Beautiful Dozen Creek fatevi da parte. I due negli ultimi anni hanno messo su un business si non mica da ridere, è una roba coi fiocchi. Tra integratorini indispensabili che guarda caso pare proprio che rispondano al fatto che la finta pandemia sia curabile con la vitamina C. Ma guarda te che culo. O ancora una piattaforma antisistema su cui poter accedere a contenuti esclusivi e corsi di medicina alternativa. Come ad esempio gli imperdibili tecniche di sopravvivenza. Prepariamoci, parliamo di tecniche di sopravvivenza per il mondo che verrà. O ancora, ritorno al Medioevo, il ciclo di appuntamenti è dedicato a Santa Hildegarda di Bingen. Correte subito ad iscrivervi. Ma so cosa state pensando e state pensando male. Non è per quel motivo che si sono buttati in politica. Buongiorno dottoressa Gatti, spiega a chi vi ha seguito in questi anni per quale motivo lei e consorte vi buttate in politica? È solo per difendere i nostri bambini dall'attacco che stanno facendo. I bambini sono la loro vera missione. La propaganda di vita si basa fondamentalmente sulle community online, ormai ben radicate, e presso cui i propri esponenti godono di fama e credibilità. E lo fa con toni trionfalistici e sensazionalisti. Primo confronto televisivo di vita. Paolo Sensini smonta in diretta su Telenova i candidati fotocopia del PD ed i Fratelli d'Italia, due facce della stessa medaglia di regime. Nuovo incontro a No Paura Day TV con Silver Nervuti, l'uomo che ha subito smascherato il colpo di Stato chiamato Coronavirus. Raga, non funziona se ve lo dite da soli. Comunque, con la campagna elettorale i toni non sono cambiati, sono riusciti a buttarci un po' di complottismo anche qui. Proiezione film Vaxed, il film che non vogliono che tu veda, di Andrew Wakefield. Il film che non vogliono che tu veda, creato da colui il quale ha falsificato i dati di una ricerca per sostenere che i vaccini causassero l'autismo, tranne i suoi. Vai così! Questa è la scheda per gli italiani residenti all'estero. Come vedete, vita non c'è perché era necessario portare centinaia di persone a firmare solo nei consolati e il termine era anticipato di oltre 20 giorni rispetto all'Italia. Una vera e propria truffa operata dagli usurpatori che ci sgovernano. Bastardi! E le altre liste dove sono? Sono schede nulle, non ci sono tutti partiti! Poi Letta parla di pericolo per la democrazia. Questa come si chiama? Truffa o paura di perdere le elezioni? Vergognati! Raga, non c'è alcun complotto. Dovevano raggiungere 250 firme, non ce l'hanno fatta, non ci sono. Se no anch'io potevo farmi votare a sto punto, no? I cittadini che sono stati privati del diritto di voto possono tuttavia fargliela pagare in questo modo. Ognuno di loro convinca almeno 20 con cittadini in Italia a votare vita. È l'unica possibilità per dare voce e forza a milioni di persone che altrimenti verranno tagliate fuori e calpestate dalle misure disumane imposte a noi tutti. Ah, pure gli schemi piramidali ci mettiamo. E chi porta più amici cosa diamo? Una bella magliettina? Le magliette vita vanno indossate. Guardate questi candidati che effetto fanno. Spettacolari! Sia le magliette che i candidati. Spettacolari! Da Milano Fashion Week, guarda. Bene, cosa c'è di meglio da fare ora se non andare un po' a leggere il loro programma elettorale? Ho selezionato solo per voi le parti più succulente. Allora, cominciamo con il dire che il programma non è un programma. Semplicemente è una serie di slogan senza capo né coda, senza alcuna connessione logica e senza una pianificazione strategica dietro. Si apre, ad esempio, con una bella frasetta d'effetto. Sì, alla vita come diritto inalienabile in tutte le sue espressioni e manifestazioni. Principale rivelazione della vita, le giovani generazioni, i bambini e gli adolescenti sono al centro della comunità nazionale. Mh, penso voterò Sauron. Il male mi dà più fiducia. Abolizione di ogni ricatto sanitario e terapeutico come l'obbligo vaccinale per ogni fascia d'età e per tutte le categorie professionali e sociali. Stop ai sistemi di ingegneria sociale, sorveglianza e controllo, nonché di premialità e credito sociale. Quali sono sti sistemi me li dovete dire? Non li sanno neanche loro visto che non li hanno scritti. Instaurazione della sovranità monetaria, energetica e alimentare. Che diavolo è la sovranità alimentare? Cosa facciamo? Espelliamo i kebabari? Lotta alla disoccupazione tecnologica. Ma cosa siamo nell'Ottocento con i luddisti? Sì, andiamo a dare fuoco alle antenne 5G, fanculo gli informatici, i cyborg ci rubano il lavoro. Uscita dalla Nato, uscita dall'Euro, da questa Unione Europea, vabbè, classiconi. Tutela della libertà di scelta della didattica alternativa e homeschooling. Riconoscimento e diffusione della bellezza come nuovo paradigma culturale e sociale. Non ho capito, se sei un cesso ti devo discriminare. Stop ai programmi di indottrinamento gender, corpo neutro e transumano. Me non vuole. Me ribella. Macchine prenderanno potere. Lunga vita re cyborg. Stop al finanziamento pubblico dell'editoria. Guarda, su questo sono d'accordo, visto che i principali giornali che ricevono finanziamenti pubblici diretti sono famiglia cristiana, libero e avvenire. Non di certo i giornali mainstream come il Corriere della Sera e il Sole. Stop ai programmi di geo-ingegneria e difesa dell'area pubblica e dell'etere. Naturalmente. Potevano forse mancare le scie chimiche? E chiudiamo in bellezza. Stop alla cultura della morte nella propaganda della ipermedicalizzazione della vita. Stop 5G, moratoria nazionale per gli standard tecnologici non sicuri per umanità e ambiente. Stop alla transizione digitale. Stop all'immigrazione clandestina in tutte le sue forme attraverso l'autodeterminazione delle persone e delle comunità per la fine di ogni tipo di neocolonialismo estrattivista. Che in pratica significa prematolare il caputo atomico. Quindi che mi dite? Vi piace il programma di vita? O volete qualcosa magari un po' più antisistema, un po' meno complottista, ma molto più bigotto. Tranquilli? Ho io l'alternativa che fa il caso vostro. Alternativa per l'Italia è il partito che fa per voi. Nato da due elementi più progressiste d'Italia. Il fa... Ci sta... Simone Di Stefano, ex Casa Pound e l'ex DC, PP, PD e pokerista. Davvero, è stato il primo italiano ad arrivare al tavolo finale del World Poker Tour. Mario Adinolfi, un uomo sempre pronto a scendere in campo per combattere le battaglie più importanti. Che si tratti della faida Totti Lariblasi, del gender a Sanremo, o del criticare una portabandiera italiana alle Olimpiadi un pelo troppo scuretta. Alternativa per l'Italia è sfigato. Sfigatissimo. Così sfigato da aver messo come bandiera nel proprio logo no al Green Pass, quando il Green Pass non esiste più da mesi. Così sfigato da non creare nemmeno un nuovo gruppo Telegram, ma riciclare quello del popolo della famiglia, il vecchio partito di Adinolfi, per non perdere 200 follower. Così sfigato da dover rubare i post agli altri partiti. Così sfigato da non essere invitati ai raduni degli altri partiti antisistema. Così sfigati da essere costantemente ricoperti di insulti sulla loro stessa pagina ufficiale. E sì che loro si impegnano con la loro comunicazione creativa. Va che bello. Greta, il gender, l'antifascismo. Arte. Le battaglie dei nostri eroi sono la denatalità, il no all'aborto, il no alla sostituzione etnica, e sì alla Russia. Perché la Russia è buona! Vediamo un po' il programma. Tanto è corto. È letteralmente una pagina. Una pagina. Non c'avevano sbatti. Ma io ve lo riassumo ancora di più, perché tanto non fa ridere e quindi non vi faccio perdere tempo. Allora, la mission è tipo no al politically correct. Sostegno alla maternità. Lotta alle multinazionali straniere. Libertà educativa contro l'imposizione dell'ideologia gender. No alle strutture tecnocratiche sovranazionali. Innalzamento delle pensioni minime. Così a casa è preso degli argomenti così che si sono messi lì. Che facciamo? Dopo i tecnocrati, il gender, il politically correct, non ce lo mettiamo un punto sulle pensioni minime. Energia, ambiente, relazioni internazionali. Lascia fare. Durighe sulle pensioni minime. Ci stanno mai male. Ultimo partito di oggi è Italia Sovrana e Popolare. Un partito che annovera tra le proprie file ideologi del calibro di Daniele Giovanardi, medico sospeso e fratello dell'ex senatore Carlo, che non ha potuto fare a meno di seguire la strada di famiglia. Cosa non si deve fare per portare a casa la bagnotta. Bianca Granato, senatrice ex Movimento 5 Stelle, Novax e che va in Senato a dire che la finanza ci controlla e che siamo tutti in pericolo. Grazie. Me lo segno, me lo segno. Giorgio Bianchi, inserito dal Copasir nella lista di nomi da indagare per disinformazione pro Putin, fotoreporter scortato dall'armata russa sul campo e sostenitore di una narrazione secondo cui Zelensky sia un burattino nazista manovrato dalla Nato. Abbiamo poi Claudio Messora, fondatore di BioBlu. Come definire BioBlu? La più grande rete di disinformazione complottista in Italia? Può bastare? E poi Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, fondazione di Italia Sovrana e Popolare, figlio di Armando, operaio Fiat, ama cinema, box. È proprio uno di noi. Certo, poteva citare anche la madre, ma vabbè, è un uomo di altri tempi. Il mio personalissimo parere è che Italia Sovrana e Popolare sia molto simile ad Italexit, il partito che abbiamo visto nello scorso episodio. Solo che mentre Italexit, a mio avviso, tende a destra estrema, questi qua invece a sinistra estrema sono un po' i comunisti vecchio stile. E quindi, come comunisti vecchio stile, eccovi qua. Un cazzo di mattonazzo di programma scritto in carattere undici. Bam! Leggitelo tutto. Compiti a casa. Vabbè, scherzi a parte. Allora, meglio così che gli altri, perché almeno non è tutto slogan, almeno c'è una parvenza di serietà, contenuti a parte. Però ragazzi, che palle, oh! Ma comunque non lasciatevi ingannare dalla parvenza di serietà. Anche loro sono senza speranza. Pure loro, come Vita, che la buttano sul complottismo solo perché non sono riusciti a raccogliere le firme all'estero. Però loro chiedono solo dieci firme a testa, Vita ne chiedeva venti, eh. Loro sì che sono vicini al popolo. Siamo contro questo sistema. Siamo contro l'Unione Europea, non contro l'Europa. Siamo contro la Nato, perché non vogliamo la Terza Guerra Mondiale. Ci hanno fatto votare subito, perché se no li avremmo travolti. Ci avrebbero dato tempo di organizzarci e di farci conoscere da tutti. Hanno paura! Sì, 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 vi temono, siete troppo forti. Poi si buttano contro il sistema che falsifica i sondaggi. I sondaggi sono finti. Italia sovrana e popolare non viene neanche citata, ma va bene così. La sorpresa sarà più grande. Questa è l'immagine del primo comizio a Milano. E c'era pure il derby alla stessa ora. La nostra forza, siete voi. Ma tranquilli, perché tanto le rilevazioni se le fanno da soli, nella loro community. Così, tanto per, partito democratico 20%, Italexit 9,5%, Italia sovrana e popolare 5%, fonte, ne riparliamo il 25 settembre. Eh, o se si ha deciso così, sarà così. Che poi, vabbè, gli argomenti che mi ho detto sono più o meno gli stessi di Italexit, quindi non ci dedico troppo tempo. Recuperatevi la puntata. E iscrivetevi, lasciate un mi piace, un commento, condividete, solita roba. Quindi no all'Euro, no alla Nato, no all'Unione Europea, no ai vaccini, no al Green Pass, no alla, no, no alla tessera del tifoso. Boh, vorranno farsi votare dagli ultras. Sono sicuro che siamo arrivati già a un video lunghissimo, quindi per oggi la finisco qui. Vi invito ad iscrivervi al canale, lasciate un mi piace, un commento, condividete, qualsiasi cosa che possa aiutare a far crescere questo meraviglioso progetto che sto portando avanti da un po' di tempo. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!